DODIC ELETRONICA, UN MONDO DI SICUREZZA DEFENDERTECH, IL SISTEMA CHE INTEGRATO CON IL TUO IMPIANTO DI ALLARME, IMPEDICE IL FURTO Abbina anche tu il nebbiogeno Defender Tech all'impianto di allarme per avere il massimo della protezione. Defender Tech grazie alla sua fitta nebbia, erogata in pochi secondi, riduce la visibilità all'interno dei locali, impedisce il furto rendendo la fuga l'unica via d'uscita per il malintenzionato. La nebbia generata è assolutamente innocua, non contiene sostanze nocive per la salute e non è dannosa per gli oggetti. Adatto a tutti gli ambienti ed attività commerciali, facile da installare e abbinato a qualsiasi tipo di sistema anti-intrusione. Defender Tech, il sistema di sicurezza rivoluzionario che sta avendo un successo assoluto, lo trovi solo da Dodik Elettronica. Dodik Elettronica, un mondo di sicurezza.